Envision, magazine di informazione e cultura, perché saperne di più non è mai abbastanza. Nei giorni scorsi l'ambito territoriale di caccia macerata due valdichienti ha chiamato a raccolta i propri iscritti per un confronto sul tema della gestione del territorio e l'incremento della fauna selvatica. Sede dell'iniziativa è il Teatro Comunale di Monte Lupone, dove cacciatori e rappresentanti del sistema agricolo locale hanno potuto ascoltare dalla viva voce dei rappresentanti delle istituzioni lo stato delle molte attività in cantiere in ordine alla regolamentazione della caccia in un'ottica di ecosostenibilità e salvaguardia del territorio. Soddisfazione per il successo dell'iniziativa è stata espressa dal vicepresidente dell'ambito territoriale di caccia macerata due, Nazareno Galassi, che evidenziando l'importante risultato di essere uno dei pochi ATC che sono riusciti a mantenere a 52 euro la quota di iscrizione, ha voluto anche sottolineare il buon livello di collaborazione tra i diversi soggetti interessati alla gestione del territorio. La fotografia dell'ATC di questa parte di territorio ci consegna un'organizzazione che sta dando risultati. Sicuramente c'è un'ambia collaborazione con tutti i soggetti interessati alla gestione, dalla Polizia Provinciale in primis che collabora sempre con noi per i piani di controllo, gli operatori fonistici che poi fanno la loro parte, per cui con questo siamo riusciti a diminuire i danni fatti da piccione, dal cinghiale e per cui siamo riusciti ad avere un bilancio inattivo e siamo riusciti a mantenere una quota di iscrizione consona. In un'ottica ecosostenibile quale contributo può dare oggi il cacciatore? Ma sicuramente sui piani di controllo. Noi abbiamo delle specie sia opportuniste o altre specie come il cinghiale che sono in aumento esponenziale, per cui fare dei piani di controllo, farli a livello pubblico sarebbe un costo insostenibile. Farlo invece con gli ipotefonistici che lo fanno in modo volontario e gratuito ci permette come sia di abbassare i costi e di dare una risposta seria agli agricoltori che hanno dei danni effettivi. Voi oggi parlate di gestione del territorio e di incremento sostenibile della fauna. In che cosa consiste questa sostenibilità? Quella che sta nel giusto equilibrio, per cui sia la fauna stanziale, sia la fauna emigratoria e anche le specie opportuniste. Per cui se abbiamo un problema dei corvidi, ci abbiamo un problema dei piccioni, comunque sia dobbiamo fare dei piani di controllo. Ecco, è qui la sostenibilità, il fatto di avere delle specie in zomannumero e noi possiamo intervenire che è qui grazie alla regione che ha fatto dei piani di controllo, comunque sia che sono attuativi. A proposito di questo, oggi ci sono dei rappresentanti del mondo della politica regionale. Quali sono le vostre richieste e quali risultati per cui vi dite soddisfatti? Sicuramente stiamo lavorando a una modifica regionale. La regione partecipe, per cui vuole modificare la regionale su certi aspetti, noi diamo il nostro contributo e poi il calendario onatorio. Il calendario onatorio dovrà uscire a breve, per cui stiamo lavorando insieme alla regione per avere un calendario onatorio che sia effettivamente un calendario onatorio, né rispetto delle norme. Siamo con l'assessore regionale alla caccia Andrea Maria Antonini. A che punto siamo rispetto alle iniziative della regione sul tema dell'attività venatoria? Siamo a un buon punto perché abbiamo presentato il calendario venatorio. Rispetto allo scorso anno siamo riusciti ad anticiparlo di ben due mesi. Come ci avevano chiesto le associazioni, certo è difficile trovare il consenso su tutti i punti perché sappiamo bene che ci sono tanti modi anche di affrontare le tematiche relative alla caccia, però alla fine credo che abbiamo fatto un lavoro che va nel verso di dare delle certezze e delle risposte ai cacciatori. Il problema dello scorso anno, ad esempio, è stato che non c'erano dei tempi certi di apertura e chiusura della caccia, cosa che invece con questo calendario noi speriamo di poter dare. Quindi è importante per i cacciatori sapere bene i tempi della caccia. In cantiere c'è una legge concernente la regolamentazione della caccia. Che cosa si sta facendo e in che direzione soprattutto ci si sta muovendo? La stiamo riformulando. Ci sono alcuni cambiamenti perché è giusto ogni tanto mettere delle piccole anche novità rispetto ai contesti che cambiano. Uno di questi contesti, ad esempio, è il fatto che a livello nazionale ci siano delle indicazioni anche per il discorso della cattura dei cinghiali nei centri urbani. Per esempio questa è una novità. Quindi ci sono delle normative che sono in continuo aggiornamento ed ovvio che poi la Regione si deve anche allineare. L'altra grande novità riguarda lo statuto delle ATC che appunto sono gli ambiti territoriali della caccia, della gestione della fano selvatica del territorio che non avevano però uno statuto. E allora per la prima volta li stiamo dotando di uno statuto. Quindi siamo veramente a un punto importante dove tra il nuovo calendario fatto in maniera diversa rispetto agli anni passati e con la riforma della caccia e il nuovo statuto delle ATC pensiamo che qualche risposta importante la possiamo dare. Ultima cosa, ci stiamo adoperando per creare una filiera della carne del cinghiale perché la soluzione che sappiamo bene essere uno dei problemi più gravi quello dei danni che la fauna selvatica al cinghiale in modo particolare fa le coltivazioni le risposte sono diverse. Una di queste risposte è anche creare un circolo virtuoso della filiera della carne di cinghiale creandone anche un marchio dedicato a livello marchigiano. Noi come amministrazione regionale teniamo molto il nostro territorio al rilancio dello stesso. Siamo anche certi che mantenerlo nelle sue bellezze, nelle sue caratteristiche sia fondamentale. E chi meglio per esempio di un ATC che gestisce il territorio riesce a fare questo? Chi vive il territorio stesso, quindi chi vive l'ambiente, le campagne, i boschi. Quindi siamo noi per prime a credere in questo tipo di iniziative. Il calendario venatorio è sicuramente una parte essenziale per il controllo del nostro territorio anche perché, come deve essere fatto, il calendario stesso è stato condiviso e discusso insieme alle associazioni venatorie e anche ambientaliste. Quindi siamo riusciti a fare una cernida di tutte le opportunità, le necessità di tutto il territorio per cui siamo riusciti a fare il giusto compromesso fra le necessità di un ambientalismo e di una caccia sostenibile. In un'ottica di miglioramento dell'ecosostenibilità come si possono armonizzare le istanze del mondo dell'ambientalismo con quelle dei cacciatori? Ma guardi che sono istanze che vanno di pari passo nella stessa direzione. I primi ambientalisti sono i cacciatori e gli ambientalisti stessi tendono a fare il controllo dei cacciatori stessi. Quindi è un sistema che si equilibria da solo e dà il risultato preciso di mantenere il territorio per il bello che abbiamo intorno. Siamo con il sindaco di Montelupone, Rolando Pecora, al quale chiediamo qual è il rapporto che si è venuto via via instaurando con l'ATC di riferimento di questo territorio. Il rapporto è ottimo perché è testimonio appunto la collaborazione che c'è nel controllo, nell'intervento sul mantenimento del nostro territorio. Noi abbiamo, per le fonti storiche, abbiamo piste ciclabili che riusciamo a mantenere e a tenere in ottimo stato anche grazie proprio alla collaborazione dei membri di questa associazione che volontaristicamente collaborano con noi per la manutenzione del territorio. Quali sono oggi i principali problemi dei piccoli comuni di carattere ambientale, diciamo così, superati i quali si potrebbe guardare al futuro con più ottimismo? I problemi sono quelli specifici di ogni zona. Nel caso nostro noi abbiamo i problemi legati al fiume Potenza e alla rete idrica afferente al fiume Potenza e questo è al centro dell'interesse di noi sindaci. Nello specifico a Montelupone abbiamo un problema di territorio importantissimo che è un problema storico, il problema della frana, che è stata contrastata da interventi importanti negli anni che devono essere mantenuti. Quindi l'attenzione e la cura del territorio sono per noi una priorità assoluta. I cacciatori danno una mano enorme nella manutenzione del territorio. Se non ci fossero loro noi saremmo in difficoltà con i nostri pochi mezzi, poche forze, lavoro che i piccoli comuni hanno a portare avanti questo obiettivo. Per cui io credo che se si ragiona nel pratico, nel semplice, si parte dal basso, si riesce a contemperare le due finalità. sia quella dei cacciatori che comunque vivono necessariamente di un territorio ben conservato e quello dell'ambientalismo che giustamente si deve far carico della conservazione.